musica 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 ma mica l'avevo vista raga questa mi serve come il pane posso fare tutti i pot che voglio con questo mi serve anche tanto ferro però guardate quanta allora si raga possiamo fare pure il pot del grano purtroppo non ho trovato patate raga non posso fare uno stack e 28 non posso fare quelle delle patate e delle carote perchè non le ho quindi gg per me ok mettiamo questo questo ci serve come il pane vediamo inferium molto bene musica 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 anche perchè raga dobbiamo fare la centrifuga ha bisogno di un sacco di ferro anche perchè dobbiamo cominciare a fare anche l'altro tipo di packaging perchè per farci non possiamo mettere più oggetti invece nel packaging quell'altro si che paura che paura raga grazie che se non erro raga poi c'è pure una mission una mission di uccidere i mostri avrebbe stato comodissimo un arco avrei scettinato da lontano comunque ok vieni ma regalo ma che sto comitato di benvenuta oh ma chi ve vuole ma no ragazzi ma è impossibile guarda dove ci uscidi sento un ragno comunque eh mio caro ragno dove sei? che non ti vedo eccoti là se lo so regazzo fa una cosa pericolosissima aiaiaiaiaiaia no 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 hai capito male proprio allora mi vedo che buona la spada uno lì uno lì uno lì ragazzi a me serve una ragnitella una ok ne prendiamo un attimo fiato prendiamo un po' di risorse mangiamo il ferro ragazzi abbiamo detto ci serve come il pane questo cos'è? olium river venga c'era un ragno qui mettiamo il verso mannaccia tanto non mancano i posti per spawnare i mob copper ho sentito guarda che cacchio è la mia stringa è mia l'antica stringa l'antica stringa andava portata in salvo ferro? sbaglio? allora si ferro e redstone poi queste devo andare ad ammazzare un po' di squid raga? no vabbè no vabbè no vabbè stiamo facendo il nostro tesoretto molto bene allora quindi a questo punto tu mi stai dicendo che io devo andare ad uccidere un po' di squid bene sono molto felice di questa cosa che hai detto po' grazie per avermi chiuso la porta in faccia stai facendo la porta in faccia non me la dada questa sta morita sola raga e sali 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 ok se non erro me ne servivano 6 esatto giusto? no si 6 me ne servono ok 6 delle stone in mezzo quindi quello va bene e adesso dovrei avere tutto perfetto ok torniamo a casa comunque qui ragazzi è pieno di materiali molto bene figlie ragazzi io comunque non vedo il mio livello che mi ha dato che ci dovrei fare io con questo coso vabbè io lo butto qua non so che serve ah ok si si ho capito bravissimo esatto ci mettono un po' ad arrivare le mie notifiche ci mettono sempre un po' 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 qui